Anche quest'anno la provincia di La Spezia ha potuto contare sull'appoggio economico della Cari Spezia, una banca attenta al proprio territorio anche dal punto di vista dell'impegno sociale. Nel 2011 la banca ha sostenuto popolazioni e comuni colpiti dall'alluvione con un grande contributo economico e quest'anno, con il ripetersi dell'emergenza, ha aperto in collaborazione con il CRAL il conto corrente per un Natale migliore, a favore dei colleghi alluvionati. L'attenzione della banca alla comunità l'ha portata inoltre a scoprire che nella provincia di La Spezia vivono due bambini affetti da SMA, atrofia muscolare spinale, una rara malattia, sono Lorenzo Costantini e Filippo Ferraris. Così il direttore di Cari Spezia Roberto Ghisellini e il presidente Andrea Corradino questa mattina, in occasione delle festività natalizie, hanno deciso di fare un regalo speciale a Lorenzo e Filippo, erogando la somma necessaria a comprare due dispositivi adeguati alle loro esigenze. Un puntatore oculare che consenta a Lorenzo di migliorare le sue capacità comunicative e un elevatore a Filippo, in aiuto alla sua mobilità. Sicuramente è una bellissima iniziativa questa che vede la Cari Spezia impegnata in maniera molto generosa in campo sociale. Come nasce? Nasce da un'analisi del territorio, da un esame di quelle che sono le situazioni particolari sul territorio. Io credo che essere banca del territorio vuole dire questo, cioè capire e fare. Noi abbiamo analizzato questi casi, visto questi casi, ci sono stati segnalati dai nostri uomini che lavorano sul territorio. Siamo andati a capire e abbiamo deciso di aiutare. Quindi io voglio ringraziare tutti, compreso il nostro consiglio di amministrazione, i nostri uomini, perché in 30 giorni abbiamo capito e abbiamo fatto. Credo anche dal punto di vista della velocità burocratica sia una cosa importante e l'abbiamo voluto fare e segnalare prima di Natale perché credo che sia il modo migliore per fare i nostri auguri di Natale a queste famiglie e al nostro territorio.